Ben ritrovati amici di Infocilento a questo nuovo aggiornamento meteo. Insiste una circolazione depressionare ormai da giorni sul Mediterraneo. Lo notiamo da questa cartina con il canale perturbato che dal nord Europa si estende fin sull'Italia. Ed è proprio questo canale perturbato ad inviare in serie le perturbazioni che stanno interessando anche la nostra regione. Il tutto in un quadro climatico pienamente invernale. Infatti in quest'altra cartina possiamo notare il freddo che abbraccia un po' tutta l'Europa centro-meridionale. Vediamo quindi in dettaglio le previsioni per il cilento Vallo di Diano e Alburni nel weekend. Cominciamo con la giornata di sabato. Avremo ancora delle precipitazioni sparse alternate però a dei momenti asciutti. Le temperature non subiranno variazioni significative. Vi segnalo qualche possibile nevicata al di sopra dei 1200 metri. Passiamo alla giornata invece di domenica, quando avremo finalmente un miglioramento generale della situazione un po' su tutto il territorio. Vi segnalo solamente qualche pioggia insistente nelle zone interne. Attenzione ai venti che si rinforzeranno dai quadranti settentrionali. Bene, con questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.